Appena conclusa la messa, nella chiesa di San Serafino, San Raffaele, gli Arcangeli, poi c'è sempre l'accensione del falò al termine novena. Adesso sta prendendo fuoco, la gente si trattiene anche dopo la messa, e qua ci sono più di cento case con messiasa, per cui davvero, davvero, i virarzesi, almeno chi a casa qui si riversa nel novenario, si festeggia, si festeggia. Il paese, eccolo. Sono quattro in novenari, le chiese campestri, che appunto ha la comunità di Ghilarza, e questo diciamo ma è la capitale dei novenari. Possiamo dire del Vincere Barigado, quindi insomma la più bella anche come posizione, abbiamo il lago qui a poche centinaia di metri, e soprattutto queste innovenare sono partecipate, e anche vivono in autonomia, perché il parroco deve pensare soprattutto alla celebrazione della messa, e soprattutto c'è un comitato che è qui, che si riversa. Eccolo qua. Ecco, tra un po' il fuoco sarà davvero acceso totalmente, ecco ecco sta prendendo veramente, sta prendendo, sta prendendo forte, è soltanto di frasche, non c'è granché, quindi come si accende in maniera rapida si spegne anche perché non ha combustibile possiamo dire. Ecco, intanto questo è... Ecco, 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 ecco. Ecco, ecco.